Non c'è nessuno scontro con la magistratura, la magistratura si rispetta, le sentenze ovviamente anche, però non ci deve essere neanche un'ingerenza politica della magistratura rispetto a decisioni nette di questo governo e della politica in generale. L'ANM è un tema delicato come quello dell'immigrazione. L'ANM non l'ha interpretata in questo modo perché comunque ha visto un'ingerenza nella sentenza della giudice del Tribunale di Catania? L'ANM ha visto un'ingerenza della sentenza? Allora se lo dice l'ANM, non credo che volesse dire questo però lei. No, però la nota era piuttosto esplicita. La nota dell'ANM è esplicita ma in ogni caso la rispettiamo ovviamente. Rimaniamo però della nostra convinzione che è quella che ha anche già proferito il Presidente del Consiglio. Grazie ragazzi.